Non so se tutto piacerebbe anche ad Alessandro Rosina, andiamo torniamo a Catania perché vedo che c'è Rosina con il nostro Peppe Di Stefano, ben ritrovati da entrambi, ciao buongiorno Alessandro, si buongiorno, ti è mai capitato di essere abitato da fama? Partiamo, Leo prima chiedevi a Martigno, no no no, non mi è mai capitato, partiamo partiamo se sei d'accordo di calcio, prima Leo chiedevi a Martigno dell'allenatore di Sannino, Martigno ha detto un bel martello, tu che ci puoi dire, tu l'hai avuto, è stato il tuo allenatore di Calaio, del gruppo Siena, è l'uomo giusto per provare a risalire? Ma sì, il mister ci sta mettendo del suo, dall'inizio e da quando è arrivato che ha cercato di trasmettere la sua idea di calcio e settimana dopo settimana stiamo cercando appunto di poi riportare in campo quello che si fa durante la settimana. C'erano tanti ragazzi che lo conoscevano, io lo conoscevo perché me l'aveva detto comunque Emanuele, perché comunque nell'anno in cui io sono stato a Siena lui era appena andato via, però me ne aveva parlato benissimo e comunque poi ho potuto riscontrare queste sue qualità poi quando l'ho ritrovato qua a Catania. A proposito di Sannino, prima parlavamo con lui della soddisfazione che ha avuto nel vedere la convocazione ad esempio di Rossettini in nazionale, ti chiedo, visto a volte anche la qualità sia della Serie A che della nostra Serie B, Rossino forse meriterebbe anche una maglia in Serie A, visto e considerato quelli che spesso sono i livelli soprattutto nella tre quarti. Sì, anche l'anno scorso si era già comunque riproposto un po' questo tema, però in questo momento è inutile per me poter pensare ad altre cose se non quella di focalizzarmi sul discorso appunto del Catania. Io quando siamo retrocessi con la penalizzazione a Siena, appunto ho detto che Siena e il calciatore retrocede, però non mi sentivo retrocesso di qualità a livello umano, quindi poi ho cercato sempre di dare il mio contributo l'anno scorso anche in Serie B e poi se sei appunto forte come si dice, come quello che comunque io credo, bisogna soltanto che dimostrarlo. Riuscirete ad andare in Serie A secondo te? Siamo partiti male, quindi è un percorso molto lungo, perché tutti quanti si aspettavano dall'inizio che il Catania mettesse subito le mani sul campionato, invece non è stato così perché abbiamo avuto tante difficoltà. Però in questo periodo abbiamo fatto sicuramente un po' meglio, però bisognerà riuscire appunto già dalla partita di domani a magari a vincere anche un po' in trasferta. Monica Leo vi ascolta, Rosina. Alessandro buongiorno, tu hai girato tanto fino adesso, sei cresciuto nel settore giovanile del Parma, poi il Verona, il Torino, sei andato allo Zenit, sei tornato per il Cesena, il Siena, ora l'avventura a Catania, piazze se vogliamo anche molto diverse l'una dall'altra. Per il momento, quella siciliana, cosa ti sta dando, visto che sei lì da qualche mese? Per cosa apprezzi di più Catania? Sicuramente la piazza di Catania mi ha trasmesso subito un grande entusiasmo. Diciamo che appunto la cosa che mi ha colpito di più, nonostante la retrocessione dello scorso anno, l'ambiente si è voluto ripartire con una spinta clamorosa, vista anche gli abbonati che ha fatto quest'anno il Catania. Io sono arrivato qua appunto in punta di piedi perché era una nuova esperienza per me, però sono stato subito abbracciato un po' da tutti, dalle persone che lavorano all'interno del Catania, ai compagni e alla gente che sta fuori. Quindi sicuramente mi sono trovato molto bene, ho avvertito subito grande calore da questa piazza. Grazie Alessandro, in bocca al lupo, a te e alla squadra, davvero. Crepi, ciao. Un lavoro ad Alessandro Rosina, grazie anche a Pepe Di Stefano.